Taranto resta sempre più isolata nei collegamenti. Abbiamo parlato ripetutamente dei voli passeggeri negati da e per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, ma un'ultima notizia davvero ci sconforta e ci evidenzia come la classe politica tarantina in senso lato sia assolutamente incapace di farsi rispettare. Perdiamo infatti due treni, un Intercity per Roma ed un Frecciarossa per Milano per motivi di lavori sulla linea ferroviaria, però ancora una volta Taranto viene penalizzata, non vi sono soluzioni alternative a colmare questa perdita di collegamenti. Già i collegamenti ferroviari riguardanti Taranto erano e sono assolutamente insufficienti, ci mancavano queste ulteriori perdite. Beh, che dire, Taranto è una città del terzo mondo e le responsabilità sono varie. Io do sempre ovviamente le colpe all'amministrazione Melucci, perché il comune di Taranto è il comune capofilia della provincia ionica, ma dobbiamo vedere le responsabilità degli altri enti. La provincia di Taranto, e guarda caso il presidente della provincia coincide con il sindaco di Taranto, è sempre lui, Rinaldo Melucci, e i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione che ci stanno a fare, a subire, a fare gli schiavetti di Bari, nessuno di loro ha il coraggio di sollevare il culetto dalla sedia e andare a battere i pugni nelle sedi competenti, anche a Roma, soprattutto a Roma. Questo dal punto di vista della regione, considerando le competenze, considerando l'impegno assente dei consiglieri regionali. Ma dovremmo considerare anche i nostri parlamentari, voi di centrodestra, voi di centrosinistra, voi di maggioranza, voi di opposizione, ma stiamo veramente scherzando? Taranto viene mutilata sotto ogni aspetto e voi state così a guardare le ferrovie dello Stato che tagliano, 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 potano questo albero. Cosa è rimasto a Taranto? È rimasta una stazione che è una stazione del terzo mondo, che è uno schifo di stazione, in cui non c'è un bar, un bar è chiuso da due anni, questo è diventato un ricettacolo, questa stazione di sbandati, di drogati, di senza tetto, perché questa è una zona completamente immersa nel degrado, con una pericolosità sociale, soprattutto nelle ore notturne, davvero notevole. Guardate, andate nelle altre città e vedete che ci sono i punti di accoglienza per la persona che arriva, gli infopoint turistici, i bar, anche gelaterie, punti ristoro, qua non c'è nulla, qui siamo arrivati al punto che hanno dovuto mettere alla fine una macchinetta, l'automatico, che fa i caffè, le brioche, che dà caffè, brioche e quant'altro, ed è passata per una scelta, un evento epocale, addirittura abbiamo avuto il consigliere De Gregorio che è andato a dare le bottigliette d'acqua agli utenti, a chi arrivava a Taranto dopo un viaggio in treno, neanche parlassimo di profughi, questo ci fa capire il livello di una città morta, incapace di essere rappresentata, incapace di essere difesa da chi occupa posizioni di potere, e ho detto è un discorso ad ampio spettro, a 360 gradi, che riguarda comune, provincia, regione, deputati, senatori e Parlamento, ma ci rendiamo conto, si tagliano queste altre due linee e tutto va bene e si subisce in silenzio. Poi sentiamo parlare da parte di Melucci di Taranto città europea, parliamo di Taranto capitale turistica, di Taranto capitale del mare, ma cosa dite con questa merda di stazione, con questo cesso di stazione, perché così va definito un cesso di stazione, le ferrovie dello Stato che ci mettono i piedi in testa, che tagliano e tagliano e tagliano i collegamenti, e Taranto subisce, però cari concittadini, voi avete eletto questa gente, ora purtroppo dovete pagarne le conseguenze.